Buongiorno e benvenuti in questo vlog domenicale, scelto di mattina Non vi posso ancora inquadrare il conte perché è desnudo, desnudo no Se mi venite i labbra lucidi, non hai lucida labbra, ci ho messo il burro di cacao perché Cioè neanche in inverno mi si spaccavano le labbra, ora in primavera che c'è cauro hai tutti i labbra spaccati Scelto, e vabbè ognuno regisce alle stagioni a proprio modo, no? Scelto Va bene, noi stiamo andando, oggi abbiamo una giornata piena, incontreremo degli amici Che poi vi faremo vedere, che conoscete tutti voi anche, eccetera Poi una macchina a mangiare, non sappiamo una macchina a mangiare Comunque tra poco io mi giro verso il conte perché è di una bellezza stamattina È un po' tipo sedioso, al solito suo, però è di una bellezza Mamma mia, poi non ci dici Conte che hai oggi, non hai vinenti, perché è un po' così Lui la mattina, poi il tempo che carbura è come le macchine diesel Il tempo che carbura è poi scelto, è emozionato anche lui che incontreremo degli amici, mangeremo Ecco, vedete che già ha una domenica delle palme È così, proprio è così oggi, è così, ora guardo me l'inguardo, tra poco, tra poco Perché poi devo chiudere il vlog, mi chiamo a scappare, scelto, non potevamo perdere tempo Mi chiamo a chiedere, intanto a cercare un posto dove si mangia gratis Subito dopo andiamo ad incontrare i nostri amici Guardate ragazzi, la scelta dell'occhiale Dovete sapere che lui ha uno scatolo pieno di occhiali Guardate ragazzi, tutte le marche, magari dei cinissi lavi, vero po'? Le cinissi non navi Ah, le cinissi non navi, no C'ha le migliori, ma c'ha lavi gialli, fosforescenti, c'ha lavi di pieglievoli Guardate ragazzi, c'è una cosa impressionante quest'uomo Ora mi ha detto, mi devo scegliere un paio di occhiali Perché lui se le abbina anche in base a come è vestito Eh, scelto Guardate Ah, ci piace muchísimo, guardate Guardate ragazzi, guardate Ehi, ti saluta Guardate ragazzi, guardate, tutto il suo splendore, guardate Ah, se mi si scappi, gli scappi vede pisello oggi O vede, no, no Vede pastello Pastello come la sua camicia Vedete che è verde ragazzi L'occhiale lava azzurro È un po' coseccatino oggi, va bene così Esattamente sono verdi gli occhiali Ah, sono verdi gli occhiali Se per favore, ragazzi, diciamo che sono verdi Nessuno scriva che sono azzurri, per favore, grazie No, perché poi Eh Ah, prima di andare a mangiare, mi ha fatto una cosa ora Ora, vabbè, stacco e chiudo quando scendiamo Perché dobbiamo andare a fare una cosa importante Oggi è la domenica delle palme Quindi chi si fa? Se ho pigliato una bella palma Scetto Dice non su una piglia palma, ma chiesa Allora andiamo a bella chiesa Pidiamo una palma Ah, vabbè, è tempo che scendiamo dalle scale Scetto Pronto? Allora andiamo a prendere questa palma Andiamo a prendere questa palma Vabbè, devo rifare il nome, ragazzi, nella cassetta postale Questa cosa non è importante per voi saperla Però è giusto che vi aggiorniamo anche su questo Ah, questi sono sempre come quelli di ieri Ma sono blu E si chiamano cargo Che hanno i tasconi Magari c'erano due paia verdi uguali Più chiari, più scuri Di stoffa diversa Con le tasche complete Ah, perché una signora ieri gli ha scritto Conte, perché quando esci Quando esci hai sempre gli stessi pantaloni Perché qua mi metto i soldi a moneta Quando c'è di oggi La patente è scaduta La metto qua Sì, ma la signora ha notato che tu hai sempre gli stessi pantaloni Mi posso ora aprire il negozio Sì, davvero, caro Si accatta sempre i robbi, proprio Va bene, stiamo andando a prendere la palma Chiavi non è già busta, non si sa Però vabbè, a tra poco Guardate il conte, ragazzi, con la palma Scetto, sta prendendo i palmi Ah, ma ce l'hai fatta? Sì Che hai preso? Date palme benedette Vediamo Allora, sono le palme benedette Voi mi direte perché tutte queste Perché quella ragazza è stata carinissima Sì Mi ha riconosciuto e mi ha detto Si prenda tutto quello che vuole Che gliele voglio regalare io Sì, davvero Sì E però poi alla fine Gli ha dato qualcosa Te la devi prendere Dice, ma no, non voglio nulla E niente, avevo 10 euro Glielo ho date e mi ha tornato 8 euro Quindi si è tenuto 8 euro per 3 palme Ma quindi la posso riprendere? Sì, certo Allora la riprendo, la ringrazio Aspettate ragazzi che ringrazio quella ragazza È stata gentilissima, grazie Grazie mille, ciao Aspetta, aspetta, sta scendendo il conte Però io Eh Non mi ricordo Perché mi hai tornato a conto? Ora ci sono No No No, mi offendo Guardate, guardate ragazzi È la prima volta che il conte gli vuole dare soldi La prima volta Ma no, perché Ma no, ma Sì, ma non puoi fare ste figure Giusto, Gioia? Giusto? Spero che te li vendi tutti Dai Grazie mille Stai sacrificando Un bacio a te Ciao Gioia Buona giornata Ciao Amore Volevi fare un'opera buona oggi, vero? Yes Sei buono oggi, vero? Oggi sì Vabbè ragazzi oggi è buono Vabbè a dopo, a dopo, a dopo